È terra nostra, il posto più vicino al paradiso. Nel panorama politico, la questione lavoro è sempre preminente. Preminente, ma virtuale. Virtuale perché non è chiaro l'orizzonte di riferimento e le sue prospettive economico-sociali-culturali. Perché non si coglie la differenza fra il lavoro e la persona che lavora. Perché la cultura del lavoro ha perso i suoi punti di riferimento. Da Marco Biagi a Massimo D'Antona. E allora, per depurazione, si discute di lavoro povero, di lavoro precario. Si discute di un lavorare di cui non si conosce più il senso. Ma restano i numeri. Due morti al giorno. Per infortunio. Disoccupazione. Povertà che attanaglia 5 milioni di persone. Tasso di occupazione troppo basso. Aziende che offrono posti di lavoro che pochi si adattano ad occupare. Mancano operai specializzati e le scuole professionali non hanno l'appilla necessario per invogliare i più giovani a frequentarle. All'orizzonte il lavoro ha chiamata attraverso piattaforme digitali. E' il futuro, si è detto in un incontro sul lavoro di quest'anno a Belluno. Ebbro di se stesso, il sindacato ha mostrato i pugni a Bologna. In 30.000 per certificare che il sindacato non ha la minima idea di come affrontare la situazione. Non la capisce. Non ascolta. Non vede. Ma perché un giudizio così duro? Il sindacato di Andini a Bologna non ha saputo distinguere tra la persona che lavora e il lavoro. Il lavoro in quanto tale non è mai povero. Può essere povera la persona che lavora. Allora quello che il sindacato oggi non può fare è consolidare questa situazione e la si consolida con un salario minimo dettato dalla politica. Certo in via transitoria si può anche pensare di collegare il salario minimo ai contratti nazionali più importanti. Ma il vero problema è un altro. Bisogna cambiare radicalmente la formazione al lavoro manuale. Continuiamo il servizio. La scuola professionale non può essere il luogo dove approdano i ragazzi ritenuti poco idonei allo studio o insegnanti meno impegnati di altri. Queste scuole dovrebbero offrire un percorso culturale non meno rilevante anche se necessariamente diverso di quello degli altri licei. A Landini vorrei consigliare una rilettura di Marx anche se il Vangelo gli sarebbe più utile. A proposito di libri sul tema lavoro si sono scritte pagine veramente importanti sia sul versante della saggistica che in quello della letteratura dei romanzi. Per questa prima puntata di Terra Nostra per l'anno in corso vorrei presentarvi questo libro scritto per il mulino da Chiara Giaccardi e Mauro Magatti. I due autori hanno dato come titolo Super Società ma più esemplificativo è il sottotitolo. Ha ancora senso scommettere sulla libertà? Una domanda veramente difficile in questi tempi di guerra. Una domanda che rischia di essere traumatica. Una domanda imbarazzante che per di più nel libro si accompagna a un dittico ancora più illuminante. Dove ci condurranno sostenibilità e digitalizzazione? Verso un mondo distopico centralizzato e burocratizzato o verso la società dell'intelligenza diffusa dove la libertà potrà ancora essere l'elemento cardine per tenere insieme sviluppo economico e democrazia? Un bivio strategico che può condizionare il futuro delle nuove generazioni. E proprio il lavoro o meglio le qualità cognitive e professionali di chi lavora potranno determinare una società che vorremmo fosse democratica e felice. Sul tema i due nostri autori colgono il dibattito tutto francese sul fare degli artisti. Un lavoro, il loro ovviamente precario intermittente discreto si direbbe in gergo matematico. La proposta è di estendere questo lavorare discreto degli artisti e operatori della cultura anche ad altre categorie rimodulando il rapporto di lavoro tra momenti di formazione ed altri di lavoro formale. In Canada scopriamo sempre in questo libro si discute una proposta analoga anche se più pratica contenere il lavoro in 30 ore la settimana con almeno un terzo dedicato alla formazione. Fa ecco a questo modo di lavorare il romanzo di Cormac McCarthy Il passeggero Il personaggio principale di questo libro Western fa un lavoro veramente precario discreto come prima si diceva egli è sommozzatore pilota di Formula 2 e studioso soprattutto di matematica. Non dà meno Ian McEwan in Lezione sempre in audio editore dove Roland il personaggio principale evita la trappola dell'impiego fisso voleva mantenersi nomade per non cascarci fra il maestro di tennis il fotografo il pianista in un hotel leggiamo un passo ormai da sei mesi suonava il piano nel centro di Londra musica per tutti i palati l'orario era buono gli lasciava un mucchio di tempo libero per le sue letture due turni da 90 minuti nel tardo pomeriggio e in prima serata sette giorni alla settimana guadagnava abbastanza ancora un lavoro intermittente questa volta lo troviamo in un giallo scritto da Anne Holt il manoscritto il personaggio principale quello chiamato a risolvere il problema è una investigatrice in carrozzella anche lei fa un lavoro intermittente perché ha altri interessi il suo è un lavoro di intuizione e di relazione sapeva di essere cinica e diffidente era così che voleva essere era perfetto appropriato era sospettosa e cresciuta scettica prendeva raramente qualcosa però rocolato e individuava disegni complessi e intricati come una giocatrice di scacchi immaginava e anticipava sempre non era a tempo pieno aveva anche altri interessi diverso invece è il modo di lavorare del personaggio inventato da Maddalena Baglio Tannet nel suo romanzo Tornare dal bosco il suo modo di lavorare si avvicina molto a quello delle nostre casalinghe un collante teneva insieme i pezzi della sua vita un presupposto lo stesso che le impediva di lanciare i piatti quando Anselmo l'assillava cosa ti tiene in piedi pensava era il senso del dovere le avevano insegnato che bisognava fare le cose per bene fare le cose giuste tirare avanti come va? si tira avanti una risposta meccanica eppure perfettamente sincera tirare avanti valeva come precetto morale perché la vita è una carretta da trainare è un lavoro da portare a termine quando sei stanca perseveri quando soffri sopporti quando hai voglia di andare resti l'operosità come antidoto all'infelicità radicalmente diverso invece il romanzo di Giorgio Pirolo un romanzo autobiografico che i lettori bellunesi conoscono bene il suo libro titola i disegni non parlano e come lui il personaggio del suo romanzo sogna di vivere di progetto di vivere di design mi chiamo Jacopo Martini e disegno automobili fin dall'età di sei anni sui testi scolastici la mia attitudine è diventata il mio lavoro e disegno a testa bassa otto ore al giorno per il vorace mercato dell'industria dell'automobile sono uno che si esprime attraverso il disegno con l'intento di far somigliare le cose a tutto ciò che può piacere alla gente amo il potere che il design ha di anticipare il desiderio si il design è stato il leitmotiv della mia vita ho iniziato disegnando a scuola nei quaderni di matematica facevo le mie officine nei quaderni di italiano sulle righe facevo correre le ruote della mia fantasia fuori da quel banco fuori da quella scuola fuori da questa città a Belluno per poi arrivare a 19 anni con una passione in mano a Torino a Torino ho imparato a disegnare le automobili ho lavorato nel settore dell'auto e durante tutti questi anni sono ormai passati più di vent'anni ho raccolto tantissime informazioni fra viaggi aneddoti compagni di vita e di lavoro che ho tramutato poi in una storia che si chiama I disegni non parlano dove ho creato immaginato un romanzo che riprende un po' dalla mia vita ma ovviamente è un romanzo di fantasia dove ci sono due personaggi Jacopo e Dalia che si incrociano attraverso tante vicende attraverso il mondo della creatività perché Jacopo come me lavora nel mondo del design e traduce i suoi sogni in realtà e Dalia invece è una ragazza giovanissima che viene da un paesino della Francia da Vittel dove si produce l'acqua dove ci sono le sorgenti dell'acqua e subisce un grosso trauma infantile attua un mutismo selettivo prima con la famiglia poi col mondo intero e comunicherà col mondo attraverso i disegni quindi i disegni in questo caso diventano strumento e la creatività diventa indispensabile per la comunicazione e la natura